Credo che ci sia un punto, basilare, che la campagna elettorale ci ha fatto conoscere una realtà che noi non conoscevamo. A me non era mai successo che la gente al mercatino di Gliabani passasse tra giù le finestrine e mi dicesse LED, oltre al Zoffini Strecchi. Mai! Ho avuto discussioni, però due o tre che arrivassero Zoffini Strecchi, LED, oltre a giù le finestrine, mai! C'è il bussano del Zoffini Strecchi. No? Voi capite?